salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi andremo ad allenare le braccia ovviamente cominciamo con il caldo tre serie per 5 ripetizioni con 40 kg prima come sempre andiamo a pesarci ciao 59.30 kg grassa corporeo 13,3 rispetto alla volta scorsa siamo calati di 850 grammi e la massa grassa è calata del 0,1 per cento abbiamo perso tanto peso in un solo giorno questa è la dieta come secondo esercizio abbiamo un caldo a martello con manubrio 5 faremo tre serie per 10 ripetizioni a braccio con 16 kg musica 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 In maniera calza mettiamo 20 kg, faremo il caldo basso alla porta, 3 serie per 10 ripetizioni. Ultimo esercizio, abbiamo presa inversa, cavo basso, faremo 3 serie per 8-10 ripetizioni con 20 kg. Ragazzi, adesso passiamo ai tricipiti, dopo che abbiamo finito i bicipiti, faremo la French Press con questa bestiazione qui. 34 kg, 3 serie per 5 ripetizioni. Ragazzi, secondo esercizio tricipiti alla corda. Push down alla corda, 24 kg, 3 serie per 10 ripetizioni. Musica 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 moltissimo la serie di questo push down a presa inversa dopo quella con la corda è una cosa mortale si sente tantissimo noi faremo lo stesso peso però due ripetizioni in meno ovvero 8 ragazzi speriamo di farcela ultimo esercizio abbiamo panga piana presa stretta faremo un 3 serie per otto ripetizioni 8 10 40 kg 40 kg aumentiamo ragazzi faremo 44 di raga allenamento terminato duro abbastanza duro ora check fisico noi ci vediamo con il prossimo episodio ciao